Ho scelto di studiare statistica perché una professoressa delle superiori, la professoressa Andreozzi dell'ITIS Francesco Giordani di Napoli, mi ha trasmesso la passione per questa materia e mi ha fatto capire la potenza della statistica per la sua caratteristica multifunzionale. La statistica applicabile in tantissimi campi per studiare tantissimi fenomeni di diversa natura dalla fisica alla biologia all'epidemiologia alla medicina all'economia ricerche di mercato puoi farci di tutto con la statistica. La statistica è una scienza a supporto delle altre scienze. Un esempio di questa caratteristica multifunzionale la posso raccontare parlandovi della mia tesi di ho fatto una tesi in statistica sociale progettando e realizzando un questionario per un'indagine sull'uso del dialetto tra un gruppo di studenti universitari di Napoli. Quindi ho intervistato circa 1500 ragazzi e ragazze di varie facoltà umanistiche e scientifiche e quindi sono andato a studiare il fenomeno sociale dell'uso del dialetto, un fenomeno influenzato in effetti da fattori antropologici, linguistici, sociali appunto, economici e politici anche. Quindi diciamo una tesi abbastanza sui generis che proprio è un esempio di come la statistica poi alla fine può essere utilizzata per studiare un qualsiasi fenomeno.